e in questo modo dobbiamo andare più giù? eh si solo che riusciamo a smettere di trovare lava siamo a otto eh madonna ma quant'è che c'è la bedrock? non c'è più la bedrock sembra... eccola va bene hai trovato la bed? oh vera ora è lui viene vabbè vorrei finalmente questo vento siamo praticamente alla fine del mondo ah già mettili sulla destra le torce sennò te le tolgo io quando... ah ah ok va bene direi di improvvisare un attimo cosa? devo fare una cosa ho tutto l'occorrente guarda vabbè ah ok ma non ho trovato un cazzo fino adesso credi a parte quello che abbiamo trovato prima io intanto mi devo fare dei nuovi piccoli di ferro e dei nuovi piccoli quindi ho trovato la... papi te ne faccio alcuni anche per te si grazie perro ne abbiamo trovato veramente poco sembra che ci ha letto nel pensiero che non... papi resta qua e chi ce ne va? vieni grazie ne ho dato i 4 perfetto allora finis... ok è finito ne vuoi anche tu ho un piccolo di ferro papi ne vuoi una nuova? no non ne ho bisogno ne ho uno intero ancora allora me ne faccio uno io per me bisogna sapere esaurire ok sto provando più il ferro rosso ad andare bene sento la lava eh? sì ok sento della lava hai ragione io già ce la sento da parecchio io proverei a scavare un po' su mi sento in continuo un zombie ferro ferro buono ok ho finito di cuocere il ferro vai un cubo poi di ferro non è che ne abbia trovato che c'è cosa eh? ah no 2 vai 3 4 va lì buono quanto buono sento della lava eh? occhio lava in avvicinamento lavazzo ok lavazza ok lavazza abbiamo scoperto che la marca della lava è la lavazza eh no ho fatto un misto tra cazzo lava eh lava ah 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 dobbiamo adentrarci nella lava no io non mi addentro nella lava dobbiamo andare sopra la lava ok non è questo il punto ok dobbiamo salire tanto tutto così così guarda ok sal oh abbiamo entrato ferro sali papi non è una gran bella idea ahia ahia sali uh ferro bacio papi oh ma no maria tali dobbiamo salire ancora eh ci facciamo largo un attimino qua in mezzo punto buon'idea io spacco questo blocco qua ok ehi ok hai fatto qualche piccone da lì sì ma ne ho anche altri per me ok